Io lo so lei quando se ne andrà, lei se ne andrà quando si sarà reso conto che la montagna di Guano che è stata accumulata e che avete messo sotto il tappeto sarà così enorme da non potersi nascondere. E allora ve ne andrete, ve ne andrete come chi lascia la casa occupata, con tutto distrutto dopo aver rubato tutto e dopo aver defecato nel... Deputato Borghi, deputato Borghi, deputato Borghi, concluda, 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 concluda. Vi concludo, vi dico subito che cosa c'è in giro perché uno sembra che uno non pensi che i numeri sono numeri. Ci sono 130 miliardi di garanzie di imprese che falliranno e queste andranno a deficit. Ci sono un numero imprecisato di crediti d'imposta e saranno minori entrate per il futuro. C'è il patrimonio destinato che appena funzionerà sarà debito. E poi ci sono 30 milioni di cartelle esattoriali spostate avanti di secondo in secondo che arriveranno sulla testa della gente continuamente spostate. E quando loro avranno pensato che hanno mangiato e potuto spendere tutto quello che potevano spendere, se ne andranno e lasceranno a chi arriverà dopo questa grandinata di cartelle esattoriali. Mi spiace, non ha fiducia della Lega, non ha fiducia degli italiani, semmai ha compassione da parte nostra per quello che sta facendo. Deputato Rosti, prego. Grazie a tutti.